All'angolo blu viene dalla Georgia, più precisamente da Liglisi. Signore e signori, facciamo un grandissimo applauso a Georgi Umaga Civili! Grazie a tutti! Umaga Civili! Il suo avversario, un guerriero di casa, viene da Salem. Signore e signori, facciamo un grandissimo applauso al nostro Dario di Italian Commonwealth! Grazie! 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 loyal Dio! Grazie! Grazie Recrizione! Grazie! Grazie! ...so, please, let me hear some noise! E adesso ritorno in italiano. Signori, tirate lo giusto, palazzetto! Fatemi sentire! Bambario! Bambario! ...so, cogito, costura, coloco d fully naturale... ...so, cogito, coloco a 3, 2 e 3 Grazie. 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 End of the first round. Please, seconds out. Grazie a tutti! 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 Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.